Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, bentrovati nuovamente qui sul canale, secondo contenuto di giornata. Lo voglio sviluppare relativamente a quello che sarà la finale a Juventus-Atalanta, ma soprattutto su Gasperini. E allora, prima di sviluppare il concetto e lasciare spazio ovviamente ai vostri commenti, come sempre, io vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, azionando la campanella di notifiche e mettendo un bel pollicione verso l'alto in fondo della puntata. Sperando possa essere stata di vostro gradimento. Allora abbiamo detto sarà Juventus-Atalanta, Atalanta che batte la Fiorentina 4-1, una Fiorentina che ancora una volta commette in perfetta linearità con la mentalità del proprio allenatore, un suicidio totale al minuto praticamente 94 sotto in inferiorità numerica e riesce nell'incredibile intento di prendere gol in contropiede per poi chiudere la per 4-1 un passivo decisamente pesante, ma chissà che non sia una volta per tutte di insegnamento a italiano e per il suo futuro di allenatore che viene visto come possibile accostamento al Napoli. Ma non ci interessa questo, quello che ci interessa è che sarà Atalanta-Juventus o Juventus-Atalanta. Ci interessa capire quello che potrà essere, mancano ancora 20 giorni, avremo modo e tempo di parlare chiaramente dell'avvicinamento a questa sfida, questa sfida che oggi vede strafavorita l'Atalanta per quella che è l'espressione di calcio, per quella che è il modo di interpretare il gioco del calcio, il modo di correre in campo al cospetto di una Juventus che ormai da tre mesi a questa parte fa acqua da tutte le parti, non riesce nella maniera più assoluta a ritrovarsi e quindi a infondere inevitabilmente del pessimismo e delle preoccupazioni nella tifoseria. Ma avremo, ripeto, modo di capire, di valutare come Allegri deciderà di giochiarla. Saranno due gli squalificati, da una parte Scamacca, a Monito io mi avviso ingiustamente ieri sera, per un non fallo ai danni di Nico González e Locatelli che invece è stato a Monito salterà la sfida dell'Olimpico e vedremo come Massimino Allegri deciderà di procedere se con un cambio tattico, ne dubito, o con l'inserimento di un giocatore di esperienza al suo posto che potrebbe essere Danilo, oppure se darà spazio al desaparecido Nicolussi Caviglia. Ma quello che io voglio condividere con voi è un pensiero relativamente a Gasperini, perché Gasperini, che molti non lo vorrebbero, altri invece lo verrebbero come l'allenatore perfetto per il futuro della Juventus, è un allenatore che fa discutere, non c'è dubbio, ma che a Bergamo, o come ho già avuto modo di dire, è stato in grado di creare l'ambiente perfetto, situazioni perfette, un giocattolo davvero piacevole e gradevole da veder giocare quasi sempre nel corso dell'anno e quindi ci sono chiaramente delle riflessioni che vanno fatte sui giocatori dell'Atalanta, sulla Juve, che sta mettendo gli occhi da qualche mese a questa parte su Teon Coopminers, ho letto chiaramente tanti che non vorrebbero tale acquisto, uno, e questo lo condivido per l'eccessivo esborso a cui la Juventus sarebbe chiamata da sostenere, ma mi sento anche di rassicurare, quei soldi la Juventus non potrà mai spenderli perché non li avrà nemmeno a disposizione, quei 50 barra 60 milioni di cui si vocifera. Ma il discorso è un altro, il discorso è, i giocatori dell'Atalanta performano in questa maniera nell'Atalanta perché sono giocatori che li riescono a rendere, poi trasportati in un altro contesto, non valgono quei soldi, non valgono quelle prestazioni, non sono in grado di ripetersi. Ora, premesso che è tutto quanto da verificare, tutto quanto da vedere, perché non si può prendere ad esempio uno o due casi per poterne fare la legge assoluta. Io prendo Scamacca, oggi devo dire che, contrariamente a come l'avevo battezzato allora quando fu accostato alla Juventus mi ero clamorosamente sbagliato. Secondo me Scamacca, oggi, per il tipo di giocatore che è, è un lusso, è un attaccante che in Italia non abbiamo, è il miglior attaccante, presumibilmente il miglior attaccante italiano in questo momento. È chiaro, una partita non può essere determinante nei giudizi, ma io non lo dico per questa partita contro la Fiorentina, dove tra l'altro ha fatto due gol di pregivolissima fattura, il secondo poi è un ragazzo della sua stasta, una capacità di coordinazione con una rapidità di esecuzione improvvisa come quello che lui è stato in grado di esibire, significa che il ragazzo ha delle qualità. Ma non c'è dubbio che sotto l'esida di Giambiero Gasperini il ragazzo sia migliorato tantissimo. E allora? E allora se Scamacca trasportato in un altro contesto non dovesse ripetere queste situazioni, come molti sostengono, parlando ad esempio della Juve o Cupminer trasportato in un altro contesto non dovesse dar seguito alle bellissime prestazioni che sta fornendo in queste due stagioni bergamasche, allora c'è di contro un concetto che non può che essere quello che Giambiero Gasperini, che se ne dica, è un grande allenatore. È un allenatore che sa insegnare calcio, è un allenatore che sa migliorare tutti i giocatori che passano sotto la sua guida tecnica. Perché va detto, io posso anche essere d'accordo che non tutti i calciatori dell'Atalanta trasportati in un altro contesto possono essere quello che sono oggi all'Atalanta. Però io credo, e lo dico molto sinceramente, che su Scalvini ci si potrebbe scommettere. Credo che su Ruggeri ci si potrebbe scommettere. Credo che su Scamacca ci si potrebbe scommettere. Credo che Cupminers sia un ottimo calciatore. E ci si potrebbe più che scommettere puntare, perché questa non è nemmeno più una scommessa. E poi ne dimentico altri, ma ce ne sono sicuramente tantissimi altri. Ma tutti i giocatori sotto la guida tecnica di Gasperini obiettivamente o overperformano o sono decisamente migliorati rispetto a quando arrivarono o rispetto a quando non erano sotto la guida tecnica. di Gian Piero Gasperini. Questo sta a significare che Gasperini sicuramente è un grande allenatore. Sicuramente è un allenatore capace di migliorare i calciatori. Di conseguenza non ci si può soffermare su quella che fu la sua parentesi negativa in nero azzurro. Il nero azzurro non quello di Bergamo. Perché erano altri tempi. C'era una rosa molto probabilmente, credo fosse l'epoca post-Mourinho, con calciatori che avevano vissuto l'epoca del triplete. Mi sembra che fosse quella più o meno la situazione. E quindi nel tentativo di dare una svolta, in quel momento lì, possiamo fare una sorta di parallelismo con quello che è accaduto alla Juventus quando si decise di dare una svolta nel passaggio prima tra Allegri e Sarri, poi da Sarri a Pirlo. dove non è facile, perché hai una rosa fondamentalmente logora, andare ad impattare con le tue metodologie, la tua idea di calcio su giocatori che sono stati abituati da anni a giocare in una maniera differente e abituati ad altre situazioni, molto probabilmente non è così semplice. Oggi credo sia un Giampiero Gasperini completamente diverso, sicuramente più esperto, che ha maturato anche attraverso quell'esperienza una crescita professionale e personale. E quindi io mi sento di definirlo non perché ritengo che possa essere il nuovo allenatore da Juventus, l'ho già detto, non ho nessun tipo di informazione in tal senso, ma possa ritenersi un grande allenatore, perché a Bergamo sta dimostrando di essere un allenatore che ha idee, che sa far giocare molto bene le proprie squadre, che sa migliorare i calciatori, che sa farli rendere al 110%. Di conseguenza, se è vero ed è tutto da verificare che quei calciatori trasportati in altro contesto non sarebbero quelli che sono oggi, significa che Giampiero Gasperini sicuramente, per voi che date questa definizione dei calciatori dell'Atalanta in un altro contesto, Giampiero Gasperini è un grande allenatore, io a prescindere per quello che sta facendo in questi anni, per come gioca la sua squadra, per come giocano i suoi calciatori, per come è iniziato in grado di migliorarli, tutti, bene o male, quelli che sono passati sotto la sua guida tecnica, ritengo Gasperini un grande allenatore. A voi il commento, al di là del fatto di accostarlo o meno alla Juventus, qui non c'entra questo contesto, c'entra il fatto che ci troveremo davanti l'Atalanta in finale di Coppa Italia con un allenatore che sicuramente darà del filo da torcere e parecchio alla nostra Juventus. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Ciao!